I loro gruppi sono composti da persone adulte, da bambini, sono rappresentati con le loro particolari di natura, di cappelli, di fazzoletti, di loro e dei nostri fiumi, portano gesti con i prodotti fissocani, hanno dentro i nostri biscotti, i nostri tarani, i nostri prodotti portocortivi, i nostri livoni, le arance, i mandarini, sono i prodotti della nostra terra, quelli che invadiamo e che abbiamo la possibilità di poter decantare nei confronti degli altri. Sono portatori di un piccolo carretto, su cui hanno depositato anche i loro prodotti dolci, come le zeppole e gli stupoli. Questo gruppo invece rimanda ad un'associazione, l'associazione è il gruppo Carlo Fusano, che fa parte della nostra parrocchia di Bonea. Ogni anno il gruppo ha fatto una rappresentazione particolare, quest'anno ha portato il prodotto pane come prodotto principale, come prodotto nostro di fatturazione artigianale. E ha portato la pizza, che è l'altro prodotto di cui questa terra vanta la sua università. Sono i pane e i taralli, i prodotti tipici che noi possiamo candidamente e doverosamente mettere in posta. Sono accompagnati dalla sarmonica di Luigi Stajano. È una amante della musica.